Mi stanno chiamando in molti anche dei ristoratori fanesi. Purtroppo la situazione è quella che è, è tragica, stanno comunque i casi aumentando purtroppo e quindi è inutile farsi delle prospettive o delle idee in testa. Tutto sta come se la situazione si migliora, quanti velocemente si vaccineranno o se la situazione peggiora. Quindi purtroppo, come ho detto anche in altre interviste, non c'è una sfera di chistrallo ma soprattutto non c'è qualcuno che sa veramente quando noi apriremo, non è che c'è qualcuno che ha un'informazione che noi non sappiamo nei ristoratori. Purtroppo la situazione va in base agli aspetti della salute dei nostri cittadini marchigiani e della nostra provincia perché in base a quanti migliorano, se le situazioni e i casi migliorano o peggiorano. Quindi dobbiamo solo sperare che questa situazione migliori velocemente è che ci si vaccina più velocemente possibile in modo tale che si ritorna quanto prima alla normalità che è quello che vogliamo tutti in realtà. Stiamo facendo questo cestino pasquale con tutti i prodotti marchigiani che è carino, con tutta la crescita di Pasqua fatta in casa, la nostra pasta, l'agnello fritto. Noi così creiamo una Pasqua spensierata per i nostri clienti che vogliono mangiare comodamente a casa loro come se fossero al ristorante. Grazie.